È una bella giornata oggi, perché ci permette di parlare di futuro, di pace, di convivenza, lasciando da parte per qualche ora la piccola polemica politica locale. Noi abbiamo organizzato questo convegno perché vogliamo che i nostri figli non rivivano gli errori e gli orrori del passato e quindi io ringrazio per gli spunti di verità e di libertà che non sempre a livello giornalistico o accademico italiano ci è permesso sentire. Noi non vogliamo che venga cancellato niente e nessuno. Chi vuole cancellare Israele ha in noi un avversario ora e sempre. Quindi combattere con l'educazione, combattere con la prevenzione, combattere laddove serva con la repressione, che non è una parolaccia quando ci sono in mezzo i valori, i diritti e la sopravvivenza di singoli o di popoli. E quindi l'antisemitismo ha bisogno di una cura e di un'attenzione particolare. Mi spiace che qualcuno non sia qua oggi perché avrebbe voluto che parlassimo di tutto. Però è una classica metodologia all'italiana per cui per non affrontare questo singolo enorme tema ma si prende l'alibi del fatto che oggi non si affrontino tutti gli altri temi dalla pace nel mondo alla violenza negli stadi. Chi non ha il coraggio di dire che l'antisemitismo oggi ha matrici di qualunque colore, ahimè, e va combattuto senza sé e senza ma, non riconosce il problema e il momento che stiamo vivendo.